Ehi, perché sei triste? Ma dai, non far così! Ma chi è triste? Ehi, perché sei triste? Ma non sono triste! Dai, non far così! C'è il fatto che lei è andata a Ria Vabbè, ma cosa vuoi che sia? Sì, però è pieno di ragazze In fila, già per te Sono tutte sedute, veramente È pieno di ragazze Ma lascia mettere, ti stavo dicendo una cosa In fila, già per te Non è che sono triste, è però che lei è andata a Ria E vogliono soltanto avertire In fila, già per te Sì, però Dai, non farlo scemo Basta con i piangi, sei Stavo dicendo che Dai, non essere scemo Basta con i piangi, sei Sto piaggendo Sto dicendo soltanto che lei è andata a Ria E la merda non c'è mica, solo lei Ho capito, sì, però Ma basta con sottrati, reagisci Ti ha lasciato, reagisci Ti ha rompito i coglioni e tutti Ma hai pensato, ma hai pensato Ma hai pensato, ma hai pensato Ma hai pensato Ma che c'è solo lei al mondo Ma reagisci Sei ciovole Ma 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 smapperai Non voglio Ma chiama tu Ma hai pensato Ma hai pensato ma scudi prima o poi ragazzone abbiamo spregato stavo dicendo lei è andata via e mi ha detto di dirvi che ti ha lasciato detto a me ma scusa non stai parlando di Maria Laide? no evidentemente no sto parlando di Adalgella 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 vabbè io la chiamavo Ada questa cosa non mi è chiara non l'ho incontrata qualche giorno fa ha detto so che fate un concetto gli dice che lo lascio e dico scusa ma sono dieci anni che state insieme e dirlo tu è più carino e io sto cercando di dirglielo sono nove anni e undici mesi che cerco di dirgli guarda io se ci riesci tu che hai un po' di culo che magari riesci prima dirgli io che lo lascio vado via con Ugo che non mi cercasse più so che cambiando numero di cellulare con Ugo Ugo chi? Ugo chi? che ne so Ugo 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 qualunque qualcuno l'importante insomma adesso abbiamo spiegato la canzone ti poteva dire tranquillamente dopo sei tu che sì però dai non essi triste no ragazzi dai non fanno dai guardiamo te prego guardiamo cioè dai non essi triste a me facciamo la cosa su dai non fanno ti posso chiamare stanotte te te prego io c'ho cuore pieno di ragazzi ci ho bisogno di parlare te te prego che spettano tu sia che voglio affrontare te prego